Ci può dire le differenze tra il Carnevale di Frosinone e quello di Viareggio? Sicuramente una partecipazione decisamente più corale qui, con un contatto molto più immediato da parte della popolazione ed è anche molto interessante. Trasmigrerete parte del Carnevale di Frosinone a Viareggio? Ci può essere un gemellaggio o è presto per dirlo? Questo sicuramente potrà essere immaginato e realizzato da parte del Presidente della Fondazione, verosimilmente con un contatto tra le amministrazioni comunali.